Bentornati a tutti voi su Via della Fede. Approfondiamo insieme il Vangelo di oggi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita? Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate? E questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi né immorali né idolatri né adulteri né depravati né sodomiti né ladri né avari né ubriaconi né calunniatori né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello spirito del nostro Dio. Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo. Ciao a tutti e ben ritrovati su Via della Fede. Questo martedì facciamo subito gli auguri a tutti coloro che si chiamano Nicola perché è la festa di San Nicola da Tolentino. Dunque un santo che davvero sapeva sprigionare allegria e misericordia. Era un santo dove da molto lontano venivano per confessarsi. Molti furono i miracoli attribuiti a questo santo. Chiediamone l'intercessione per comprendere questi profondi passi del Vangelo e cominciamo con il segno della croce chiamando lo Spirito di Dio per guidarci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, guidaci o Paraclito, donaci un raggio della tua luce, la tua intelligenza per comprendere questi passi del Vangelo, per cercare di avvicinarsi sempre di più al Padre nostro che è nel cielo. Il Vangelo di Luca comincia così. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Dunque in questa riga c'è uno nascosto, uno dei segreti più grandi di Gesù, la preghiera. Gesù ogni volta che doveva fare qualcosa pregava. Ogni volta che doveva fare qualcosa di molto importante pregava davvero a lungo e questa volta prega davvero tutta la notte. Una preghiera che è relazione col Padre Celeste. Una preghiera che non è fatta per chiedere qualcosa, ma è una preghiera che condivide la vita stessa. È una preghiera che mette al centro l'amore sia di Gesù verso il Padre che del Padre verso Gesù. Ecco, in questa preghiera che diventa relazione c'è uno dei segreti più grandi di Gesù, cioè la capacità di legarsi a Dio Padre in questo modo. non faceva nulla dislegato dal Padre. Dunque in questa preghiera lui riesce a trovare la forza che manca all'uomo per poter compiere le opere. Ne avremo un esempio folgorante nel Gezzemani, quando il Signore suderà gocce di sangue e la preghiera lo aiuterà e lo renderà capace di affrontare quelle cose che poco prima lo atterrivano, davvero lo buttavano a terra. Così Gesù ci insegna come anche noi dobbiamo affrontare quotidianamente la nostra vita e specialmente le decisioni importanti. Qui Gesù prega tutta la notte. Ma vediamo cosa succede in questo Vangelo. Dice «Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, il figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Dunque, in questo momento Gesù fa e prende una delle decisioni più importanti nella storia dell'umanità. Questi dodici cambieranno la storia del mondo, dei pescatori, delle persone che erano più emarginate, più scartate come magari Matteo e addirittura un demonio, colui che alla fine lo tradì. Dunque, in questa scelta Gesù davvero prende coloro che erano gli ultimi e in questa scelta pochi sono davvero i dotti, come dicevamo anche nei Vangeli scorsi, ma in questa scelta include tutti anche un diavolo. Ma ci avete mai riflettuto su questo? Di come strumento di giustizia il demonio è nelle mani di nostro Signore. Dunque, è un aspetto estremamente importante questo, perché non è Dio, Gesù, in questo caso, che muove come delle marionette le persone, ma ne lascia la libera scelta ad ognuno. Dice, sapeva, qualcuni dicono, beh, ma lui gioca facile, sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, quindi lui ha scelto in funzione di questo sapere. Beh, non funziona così con Dio. Cerchiamo di essere chiari su questo. Facciamo un esempio pratico che si può capire. Ognuno dei dodici ha la scelta libera di aderire a questa chiamata, perché, come dice il Signore qui, ne sceglie dodici, quindi ne chiama a sé dodici. Ognuno può dire sì o può dire no, nella libertà. Ora, questo è un elemento che noi possiamo guardare anche alla luce del fatto che Gesù è Dio, cioè un po' come quando noi guardiamo un film. Noi sappiamo quando andiamo a rivedere quel film cosa succederà, cosa farà, quale sarà la scelta di quell'attore piuttosto di un altro, no? Ma non condizioniamo quella scelta. Ecco dunque che l'amore di Dio lascia liberi nella scelta, ma è inclusivo per tutti. Addirittura include Iscariota, che, come dice lui stesso, poi era un diavolo. Dunque include tutti, anche quello che lo tradisce, e per mezzo di questo tradimento, poiché Dio è l'unico che trasforma il male in bene, riesce a trasformare questo segno di croce che era nell'Antico Testamento maledizione, una maledizione riservata proprio a Dio. Dice maledetto colui che pende dal legno. Dunque trasforma questa maledizione nella porta per il paradiso. Dunque davvero sono insondabili le vie di nostro Signore, perché sceglie questa croce, perché questa croce era una delle morti più ignominose, più dolorose, senza scampo. Ecco, è un po' a dire fratello mio, sorella mia, anzi se fossero le parole di Gesù direbbe figlio mio, io posso tutto, dunque posso salvare te da qualunque condizione. Credi tu in questo? Ecco, cerchiamo di accrescere la nostra fede per poter guardare a Gesù come lo guardavano questi apostoli. Dunque Gesù sceglie dodici uomini che nello stesso giorno, in quell'oggi, cominceranno a cambiare completamente le sorti del mondo. Una volta che Gesù li sceglie, dice, discesero, disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Dunque comincia in questo momento il Gesù con gli apostoli che guarisce per un cambiamento. Da cosa ci accorgiamo di questo? Perché le genti gli vanno incontro. Le Tiro e Sidone erano zone anche pagane. Dunque guarisce dalle malattie, come dice, fisiche, anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri. Venivano guariti. Ecco che sul piatto della bilancia questo Vangelo ci dice che Gesù non aveva potere soltanto sull'aspetto materiale, ma anche su quello spirituale cacciava gli spiriti impuri e guariva gli uomini. Cacciava dunque il re del mondo, il demonio, per soppiantarlo con una guarigione che era amore e comprensiva di tutti gli uomini perché tutti accorrevano, come dice il Vangelo, accorrendo dalla Giudea, da Gerusalemme, dal litorale, accorrevano da tutte le parti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ora vorrei soffermarmi su un aspetto che ritengo molto importante. E' vero che queste persone vanno verso Gesù fondamentalmente perché da lui usciva una forza che li guariva. Ma vi siete chiesti da dove veniva questa forza? Se non dalla preghiera iniziale con cui Gesù affronta questa decisione e questa nuova opera, cioè in questa preghiera c'era la relazione tra Gesù e il Padre. Dunque, poiché Gesù è nostro fratello, ci dà quell'esempio che serve per comprendere come nelle nostre vite possiamo portare guarigione. Una guarigione non solo fisica, ma una guarigione anche spirituale, che è legata fortissimamente alla relazione che noi abbiamo con Dio Padre. Dunque, oggi noi viviamo questa relazione fortissimamente nella Santa Messa dove abbiamo l'opportunità di unirci fisicamente al nostro Signore. Ecco che in questa preghiera, in questo far permanere il Signore nel nostro cuore, possiamo trovare la forza che guarisce tutti, come faceva proprio Gesù. Dunque, questa forza è nella preghiera, in una preghiera costante, in una preghiera viva perché relazione in una preghiera non indirizzata a costantemente chiedere qualcosa, una preghiera che condivide qualcosa, una preghiera che diventa una relazione tra padre e figlio, una relazione tra padre e figlia. Dunque, che davvero la benedizione di nostro Signore oggi possa discendere su ognuno di noi cambiando il nostro cuore, cambiando il nostro punto di vista su questa preghiera per cercare di farci avvicinare a lui in una relazione d'amore che non è soltanto una regola da svolgere perché così mi sento meglio, perché così sto meglio, perché così ho fatto il compito, ma poiché è relazione, in questa relazione c'è la conoscenza. Dunque, abbiamo conosciuto, abbiamo, come dice Pietro, abbiamo creduto e conosciuto. Ecco che questa preghiera diventa la manifestazione di fede perché se tu credi Dio ti permetterà di conoscere. Dunque, che la benedizione di Dio discenda su di voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie e se potete ricordatevi di me e della mia famiglia nelle vostre preghiere. Poi un like non si nega a nessuno e se potete condividete anche il video così mi aiutate a condividere la parola di Dio. Grazie e ciao a tutti. Ancora un grande abbraccio. Grazie a tutti.